Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica Dialoghi di Clavia Marcelli, attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Piccolo signore, siediti pure, ti prego. Sono in colloquio con la Madre Divina. Ero entrato nella stanza silenziosamente, in grande soggezione. L'apparizione angelica del maestro Masaia quasi mi abbagliò. Con la serica barba bianca e i grandi occhi lucenti, egli sembrava l'incarnazione della purezza. Dal mento sollevato e dalle mani giunte, compresi che la mia prima visita lo aveva disturbato nel mezzo delle sue devozioni. Le sue semplici parole di saluto mi toccarono intimamente con una violenza mai provata prima d'allora. Avevo pensato che l'amara separazione da mia madre, dovuta alla sua morte, fosse la misura di ogni angoscia. Ora sentivo il tormento della separazione dalla mia madre divina come un'indescrivibile tortura dello spirito. Gaddi a terra gemendo. Piccolo signore, calmati! Il santo era addolorato nella sua compassione per me. Abbandonato in un oceano di desolazione, mi aggrappai a suoi piedi come all'unica scialuppa che potesse trarmi in salvo. Santo signore, intercedete per me, chiedete alla madre divina se sono degno di favore ai suoi occhi. Ad una tale promessa non si acconsente con leggerezza. Il maestro fu costretto al silenzio. Ero convinto, al di là di ogni dubbio, che il maestro Masaia fosse in intimo colloquio con la madre universale. Era motivo di profonda omiliazione accorgermi che i miei occhi erano ciechi a colei che, in quello stesso istante, era visibile allo sguardo puro del santo. Restando aggrappato ai suoi piedi, senza alcun ritegno, sordo alle sue gentili rimostranze, implorai ripetutamente la grazia della sua intercessione. La resa del maestro giunse con un lento e compassionevole sorriso. Quale potere era racchiuso in quelle poche parole, tale da liberare il mio essere dal suo tempestoso esilio? Signore, ricordate il vostro impegno. Tornerò presto per conoscere il suo messaggio. Una gioiosa aspettativa vibrava ora nella mia voce, solo un attimo prima spezzata da singhiozzi di dolore. Scendendo la lunga scalinata, fui sopraffatto dai ricordi. La casa al numero 50 di Hammer Street, in cui ora abitava il maestro Masaia, era stata un tempo la dimora della mia famiglia e il luogo della morte di mia madre. Qui il mio cuore umano si era spezzato per la madre scomparsa. In questo stesso luogo oggi avevo sentito il mio spirito come crocifisso per l'assenza della madre divina. Mura benedette, mute testimoni delle mie atroci ferite e della mia guarigione finale. I miei passi volavano mentre tornava a casa in Gopal Road. Rifugiatomi nella solitudine della mia piccola soffitta, rimasi in meditazione fino alle 10. L'oscurità della calda notte indiana fu improvvisamente illuminata da una visione meravigliosa. Circondata da una luce splendente, la madre divina mi stava dinanzi. Il suo volto, teneramente sorridente, era la bellezza stessa. Sempre ti ho amato, sempre ti amerò. Mentre quei suoni celestiali ancora risionavano nell'aria e la scomparve. Il mattino seguente, il sole non si era ancora levato ad un'altezza decorosa quando mi recai per la seconda volta in visita dal maestro Masaia. Salendo le scale di quella casa piena di ricordi struggenti, giunsi fino alla sua stanza, al quarto piano. La maniglia della porta chiusa era avvolta in un panno. Segno, mi parve, che il santo non desiderava essere disturbato. Mentre, esitante, sostavo sul pianerottolo, la porta fu aperta dalla mano del maestro che mi porgeva il benvenuto. Mi inginocchiai ai suoi santi piedi. Per gioco, assunsi a mo' di maschera un'espressione solenne, celando la mia divina esultanza. Signore, sono venuto molto presto, l'ammetto, per ricevere il vostro messaggio. L'amata madre vi ha detto nulla riguardo me. Piccolo signore malizioso. Si astenne da ogni altro commento. A quanto pare, la mia ostentata gravità non lo impressionava affatto. Perché siete tanto misterioso o tanto evasivo? I santi non parlano mai in modo chiaro? Forse era un po' piccato. Devi proprio mettermi alla prova? I suoi occhi calmi erano pieni di comprensione. Potrei mai aggiungere anche solo una parola stamani alla rassicurazione che hai ricevuto ieri notte alle dieci dalla madre meravigliosa in persona? Il maestro Masaia aveva il controllo sulle chiuse della mia anima. Ancora una volta mi gettai ai suoi piedi. Questa volta, però, le mie lacrime sgorgarono da una gioia e non da un dolore quasi intollerabile. Pensi forse che la tua devozione non abbia toccato la misericordia infinita? La maternità di Dio, che hai venerato sia in forma umana che divina, mai avrebbe potuto mancare di rispondere al tuo grido disperato. Chi era questo semplice santo, la cui minima richiesta rivolta allo spirito universale veniva accolta con dolce consenso? Il suo ruolo nel mondo era umile, come si confaceva al più grande uomo d'umiltà che io abbia mai conosciuto. In quella casa di Hamer Street, il maestro Masaia dirigeva una piccola scuola superiore maschile. Nessuna parola di castigo usciva mai dalle sue labbra. Né regole, né bacchette mantenevano la sua disciplina. Una matematica davvero superiore veniva insegnata in quelle aule modeste ed una chimica dell'amore introvabile nei libri di testo. Egli diffondeva la sua saggezza per contagio spirituale piuttosto che con impermeabili precetti. Consumato da una passione semplice ed innocente per la madre divina, il santo non pretendeva forme esteriori di rispetto, più di quante non ne richieda un bambino. Io non sono il tuo guru, egli verrà più tardi, mi disse. Sotto la sua guida, le tue esperienze del divino in termini di amore e devozione verranno tradotte nei suoi termini di incommensurabile saggezza. Ogni giorno, nel tardo pomeriggio, mi recavo ad Emel Street. Ricercavo la divina coppa del maestro Masaia, così traboccante che le sue gocce, giorno dopo giorno, inondavano il mio essere. Mai prima d'allora mi ero inchinato con così profonda reverenza. Ora sentivo di godere di un privilegio inestimabile, perfino nel calpestare lo stesso suolo santificato dal maestro Masaia. Signore, vi prego, mettete questa ghirlanda di champagne che ho preparato apposta per voi. Una sera arrivai recando la mia corona di fiori, ma egli si ritrasse timidamente, rifiutando più volte l'onore. Accortosi del mio dispiacere, alla fine acconsentì sorridendo. Visto che siamo entrambi devoti alla Madre Divina, puoi posare la ghirlanda su questo tempio corporeo, quale offerta a colei che vi dimora. Nel suo animo, tanto vasto, non c'era spazio perché potesse attecchirvi la benché minima considerazione dettata dall'ego. Domani andiamo al tempio di Dakshinesvar, consacrato per sempre dal mio guru. Il maestro Masaia era discepolo di un maestro simile al Cristo, Sri Ramakrishna Paramahansa. Il mattino seguente compimmo il viaggio di circa sei chilometri in battello, lungo il Gange. Entrammo nel tempio di Cali dalle nove cupole, in cui le immagini della Madre Divina e di Shiva poggiano su un loto d'argento brunito, dai mille petali cesellati con cura. Il maestro Masaia, estasiato, sorrideva raggiante. Ero avvinto dal suo inesauribile idillio con la amata. Appena iniziò a cantare il suo nome, il mio cuore, rapito, sembrò infrangersi in mille pezzi. Più tardi passeggiammo nei recinti sacri, fermandoci in un boschetto di tamerici. La caratteristica manna e sudata da quest'albero era il simbolo del cibo celeste che il maestro Masaia mi stava donando. Le sue divine invocazioni proseguirono. Sedevo rigidamente immobile sull'erba fra i piumosi fiori rosa delle età americi. Assentandomi temporaneamente dal corpo, mi librai in volo per una visita celestiale. Questo fu il primo di molti pellegrinaggi ad Akhsinesvar che compì con il santo maestro. Da lui imparai la dolcezza di Dio nel suo aspetto di madre o divina misericordia. Il santo, simile ad un fanciullo, era poco attratto dall'aspetto di padre o giustizia divina. Il giudizio severo, rigoroso, matematico era estraneo al suo animo gentile. Può fungere da prototipo terreno degli stessi angeli celesti, pensavo affettuosamente guardandolo un giorno mentre pregava. Senza il benché minimo cenno di censura o di critica, egli contemplava il mondo con occhi da tempo avvezzi alla purezza originaria. In lui, il corpo, la mente, la parola e le azioni si armonizzavano naturalmente con la semplicità della sua anima. Così mi diceva il mio maestro. Rifuggendo da qualsiasi affermazione personale, il santo concludeva invariabilmente ogni saggio consiglio con quest'atto di omaggio. La sua identificazione con Sri Ramakrishna era talmente profonda che il maestro Masaya non considerava più come propri i suoi stessi pensieri. Tenendoci per mano, una sera, il santo ed io camminammo attorno all'isolato della sua scuola. La mia gioia fu offuscata dall'arrivo di un conoscente presuntuoso che ci afflisse con un lungo discorso. Vedo che quest'uomo non ti piace. Il sussurro del santo rivolto a me non fu udito dall'egocentrico, ammaliato dal suo stesso monologo. Ne ho parlato alla Madre Divina e la comprende il triste frangente in cui ci troviamo. Ha promesso che non appena avremo superato quella casa rossa laggiù gli ricorderà una faccenda più urgente. I miei occhi erano incollati al luogo della salvezza. Raggiunto il cancello rosso, l'uomo, inspiegabilmente, si voltò e se ne andò senza completare la frase né salutare. Dopo l'assalto, l'atmosfera si placò nel conforto della pace. Un altro giorno camminavo da solo nei pressi della stazione ferroviaria di Aura. Per un attimo sostai vicino ad un tempio criticando in cuor mio un gruppetto di uomini che, muniti di tamburi e cembali, ripetevano chiassosamente un canto. Con quale mancanza di devozione usano il nome divino del Signore ripetendolo meccanicamente? Pensavo, quando il mio sguardo si posò, stupito, sul maestro Masaia che si avvicinava rapidamente. Signore, come mai siete qui? Il santo, ignorando la mia domanda, rispose al mio pensiero. Non è forse vero, piccolo Signore che il nome dell'amata risuona dolcemente su tutte le labbra siano esse ignoranti o sagge? Egli mi cinza affettuosamente con il braccio ed io mi ritrovai trasportato sul suo tappeto magico alla presenza misericordiosa. Ti piacerebbe vedere dei bioscopi? Questa domanda, rivoltami un pomeriggio dal maestro Masaia, poteva trarre in inganno. Allora il termine veniva usato in India per indicare il cinematografo. Accettai, lieto di essere in sua compagnia in qualunque circostanza. Camminando a passo rapido, giungemmo al giardino di fronte all'Università di Calcutta. Il mio compagno mi indicò una panchina vicino al Goldighi, lo stagno. Sediamoci qui per qualche minuto. Il mio maestro mi invitava sempre a meditare ovunque vedessi uno specchio d'acqua. La placidità di questo stagno ci ricorda l'immensa calma di Dio. Come tutte le cose possono essere riflesse nell'acqua, l'universo si rispecchia nel lago della mente cosmica. Così, diceva spesso il mio Guru Deva. Presto entrammo in un'aula universitaria in cui era in corso una lezione che si rivelò di una noia abissale, nonostante la proiezione di tanto in tanto di diapositive ugualmente prive di qualsiasi interesse. È questo dunque il genere di bioscopio che il maestro voleva che vedessi. Il mio pensiero era impaziente ma non volevo offendere il santo tradendo con l'espressione del viso la mia noia. Egli tuttavia si chinò confidenzialmente verso di me. Piccolo signore, vedo che questo bioscopio non è di tuo gradimento. L'ho fatto presente alla Madre Divina ed ella si rende conto della triste situazione in cui ci troviamo. Mi dice che le luci fra poco si spegneranno e non si riaccenderanno finché non avremo la possibilità di uscire dall'aula. Non appena ebbe terminato di sussurrare queste parole la sala piombò nell'oscurità. La voce stridente del professore si zitti per la sorpresa poi egli osservò. A quanto pare l'impianto elettrico della sala è difettoso. A quel punto il maestro Masai ed io eravamo già al sicuro oltre la porta dell'aula. Gettando uno sguardo indietro dal corridoio vidi che la scena del nostro martirio era di nuovo illuminata. Piccolo signore sei rimasto deluso da questo bioscopio ma credo che quest'altro ti piacerà. Il santo ed io ci eravamo fermati sul marciapiede di fronte all'edificio dell'università. Egli mi diede gentilmente un colpetto sul petto all'altezza del cuore. Seguì un silenzio trasfigurante. Come nei moderni film sonori le immagini diventano mute quando si guasta l'audio così la mano divina per uno strano miracolo spense il frastuono terreno. I pedoni e così pure i tram le automobili i carri trainati dai buoi le carrozze pubbliche con le ruote di ferro tutti transitavano silenziosamente. Quasi fossi dotato di un occhio onnipresente contemplavo le scene che si svolgevano dietro di me e in entrambi i lati con la stessa facilità con cui potevo vedere quelle di fronte. L'intero spettacolo delle attività in corso in quel piccolo settore di Calcutta sfilava davanti ai miei occhi senza alcun suono. Come il bagliore di un fuoco intravisto sotto una sottile coltre di cenere una calda luminescenza permeava la vista panoramica. Il mio stesso corpo non sembrava altro che una delle molte ombre seppure immobile in quel muto andi rivieni. Molti ragazzi amici miei si avvicinarono e passarono oltre pur avendomi guardato direttamente in volto non mi avevano riconosciuto. Quella pantomima straordinaria mi trasportò in un'estasi indescrivibile. Vivi a grandi sorsi da una fonte inebriante. Ad un tratto sentii sul petto un altro lieve colpo del maestro Masaia. Il pandemonio del mondo esplose nelle mie orecchie riluttanti. Bacillai come se fossi stato bruscamente risvegliato da un fragile sogno. Il vino trascendentale era ormai lontano e irraggiungibile. Piccolo signore vedo che questo secondo bioscopio è stato di tuo gradimento. Il santo sorrideva. Stavo per lasciarmi cadere ai suoi piedi colmo di gratitudine ma egli disse ora non puoi più fare questo a me. Sai che Dio è anche nel tuo tempio. Non permetterò che la madre divina tocchi i miei piedi attraverso le tue mani. Chiunque avesse osservato l'umile maestro e me mentre ci allontavamo dal marciapiede affollato avrebbe sicuramente sospettato che fossimo in stato di ubriachezza. Io sentivo che le ombre calanti della sera erano anch'esse partecipi della nostra ebrezza di Dio. Quando il giorno si riprese dal suo deliquio notturno affrontai il nuovo mattino ormai orfano del mio stato d'estasi. Gelosamente custodito nella memoria è rimasto però il ricordo del serafico figlio della madre divina il maestro Masaia. Mentre cerco con parole inadeguate di rendere omaggio alla sua benignità mi domando se il maestro Masaia ed altri santi dotati di profonda chiaroveggenza il cui cammino si intrecciò con il mio sapessero che a distanza di anni in un paese occidentale avrei raccontato le loro vite di devoti di Dio. La loro precognizione non mi sorprenderebbe così come non sorprenderebbe mi auguro i lettori che mi hanno seguito fin qui. di di Grazie.